Aveva una conoscenza profonda di chi aveva davanti, quindi non arrivava mai impreparato e questo sicuramente è una lezione molto importante. Un vero e proprio pioniere, costruttore di un progetto politico, che ha fatto la storia. Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, ricorda così Silvio Berlusconi all'indomani della sua scomparsa. Dal primo incontro con il Cavaliere, che ebbe luogo nell'ottobre 2014, quando Silvetti era commissario regionale di Forza Italia, ha l'ultima telefonata avvenuta poco dopo la vittoria nelle elezioni comunali. L'ex premier aveva per primo caldeggiato la sua candidatura a sindaco e non aveva mai fatto mancare il suo portadistanza durante la campagna elettorale. Vi aveva chiamato proprio perché aveva idee per Ancona e per mettere a terra le sue relazioni che potevano dare un aiuto a questa città per cambiare un po' la percezione all'esterno. Quindi era una persona del fare, una persona che si è sempre dimostrata disponibile ed era una persona che non chiedeva, ma che produceva contributi importanti in termini di idee e di progettualità. Cosa lascia in dote Silvio Berlusconi alla politica italiana? Sicuramente ha cambiato il linguaggio, ha cambiato l'interpretazione della politica, quella della Prima Repubblica. Ne ha affrontato in termini assolutamente nuovi e per 30 anni ha caratterizzato una stagione che lo ha reso sicuramente sempre protagonista, quindi un nuovo modo, un nuovo linguaggio, un nuovo approccio alla politica e sicuramente una sensazione diversa, cioè dove il cittadino è sicuramente più partecipe. Chiusa un'era, per Forza Italia se ne apre ora una nuova, quella del rinnovamento, sia a livello nazionale che locale, ma sempre mantenendo i valori tramandati dal suo fondatore. Chiaramente c'è da costruire una nuova stagione e sicuramente la classe dirigente sarà sicuramente all'altezza di costruire il secondo tempo di Forza Italia.